Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI per traffico intenso, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni in rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per la 1. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!